Musica Avevo paura di avvicinarmi al cavallo, invece adesso li adoro, mi danno una sensazione di fiducia che si guadagna, non si compra in qualche modo. Quando ci chiedono cosa è la libertà non sappiamo mai cosa dire perché pensi a una cosa ma in realtà è un'altra, ma quando lo provi andando a cavallo è una cosa che ti arriva e ti fa stare sereno, tranquillo, libero veramente. Devo dire che è molto semplice quando si trovano persone con le quali condividere gli stessi obiettivi, persone che hanno una sensibilità orientata verso il sociale, soprattutto persone che valutano le persone anche per il loro percorso, forse diverso dal nostro ma senza pregiudizi. Quindi sensibilità, attenzione senza dei pregiudizi e abbiamo già fatto una straordinaria rete, questo è proprio l'esempio. È stata un'esperienza veramente molto forte, devo dire che i ragazzi alla fine quando abbiamo finito il corso sono anche emozionanti, anche gli istruttori perché è stata un'esperienza sotto l'aspetto umano veramente forte. E sapere di fare qualcosa per questi ragazzi che poi abbiamo conosciuto è stata una cosa veramente molto bella. Grazie. Grazie.